Buonasera e benvenuti su LibriTV, questa è la virgola dell'11 ottobre 2013, io sono Gianni Colascione, è una virgola registrata perché LibriTV è mobilitata questo fine settimana con una serie di servizi esterni e quello che volevo commentarvi questa sera era una notizia che in questi giorni, spero non soltanto, in questi giorni, diciamo su tutti i giornali e spero che se ne parli soprattutto anche all'interno delle Camere. Si tratta appunto del messaggio alle Camere inviato dal Presidente della Repubblica, un messaggio incentrato sulla condizione carceraria ormai da tempo insostenibile. Leggo dal testo scritto proprio da Giorgio Napolitano, l'esplicitazione di ciò che l'ha motivato. Parlando della Corte Europea dei diritti dell'uomo, nel messaggio si legge quest'ultima con la sentenza approvata l'8 gennaio 2013, secondo la procedura della sentenza pilota Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia, ha accertato nei casi esaminati la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, che sotto la rubrica Proibizione della Tortura pone il divieto di pene di trattamenti disumani o degradanti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. La Corte ha affermato in particolare che la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 3 è origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone e che la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una prassi incompatibile con la Convenzione. Quindi motivazioni molto forti che appunto partono o perlomeno sono supportate, rafforzate da una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. C'è un termine, adesso ve la faccio breve, c'è un termine che è stato fissato all'Italia, che è stato, dentro cui si deve praticamente adeguare, l'ordinamento carcereo deve adeguarsi affinché appunto non si ripetano questo tipo di esecuzioni di pene detentive in modo degradante, disumano. Noi non abbiamo peraltro in Italia un riato di tortura, si cita appunto in questa sentenza la proibizione della tortura. Questo termine scade, questo termine ci si deve adeguare il 28 maggio 2014. Ecco, questa prima parte che vi ho letto è un pochino relativamente alle motivazioni pressanti, ma la vicenda è annosa purtroppo e ragionevolmente collegata con la strage rappresentata dai tantissimi suicidi nelle carceri, compresi quelli del personale penitenziario. E ove suicidi non ve ne siano, comunque certe condizioni provocano un abbrutimento umano, condizioni di lavoro, un abbrutimento umano e condizioni di vita che sono assolutamente indegni di un paese civile, di un paese che comunque sia nella sua Costituzione, che è un atto fondante potremmo chiamarlo, recepisce il rispetto dei diritti umani. Lo stesso Napolitano nel 2005 come Presidente della Camera partecipò ad una marcia per la mistia organizzata da radicali con Marco Pannella a capo. Da allora le condizioni sono peggiorate e l'indifferenza del Parlamento nelle legislature che si sono avvicendate è stata mortificante per lo Stato di diritto e per l'Italia, per i cittadini. E allora perché, molti si chiedono, Napolitano solo ora, all'inizio del suo secondo mandato ha usato questo strumento previsto dalla Costituzione. Perché finora, la domanda è perché finora istituzionalmente è sembrato inattivo? Non personalmente, perché personalmente Napolitano in più di un'occasione si è dimostrato sensibile all'argomento, c'è stato anche un convegno organizzato dai radicali, grazie se non sbaglio in Senato alla vicepresidenza di Emma Bonino in passato, qualche anno fa, in cui aveva parlato di una pressante urgenza se non sbaglio. Quindi personalmente era evidente che fosse coinvolto, ma istituzionalmente non aveva mai agito con questo strumento che è il messaggio. Bene, lui stesso specifica la questione dei tempi all'inizio del suo messaggio, con queste parole. Nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per cui rivolge direttamente al Parlamento al fine di richiamare l'attenzione su questioni generali relative allo stato del Paese e delle istituzioni repubblicane al profilo storico e ideale della nazione. Ricordo soprattutto i discorsi dinanzi alle Camere unite per il 60esimo anniversario della Costituzione e per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia e potrei citare anche altre occasioni meno solemni in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto però ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al Presidente. E ciò, questo è importante, e ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice esperienza di formare i messaggi inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica senza che ad essi seguissero testimonandone l'efficacia di battiti e iniziative, anche legislative, di adeguato e incisivo impegno. Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della Carta è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione scottante da affrontare in tempi stretti, nei suoi termini specifici e nella sua più complessiva valenza. Bene, è molto, diciamo, secondo me esplicativo, chiaro questa parte del messaggio e dà una risposta proprio al perché non prima. Io penso che non sia stata ovviamente una scelta casuale quella del momento in cui fare questo messaggio. Farlo prima avrebbe esposto il Presidente della Repubblica ma soprattutto tutti i destinatari dell'amnistia cioè chi vive le condizioni carcerarie disumane e quindi potenzialmente tutti noi cittadini di questo paese ha tre ipotesi contemporanee, tre scenari. Un messaggio alle Camere inutile è la prima. La seconda è un messaggio che avrebbe posto il Capo dello Stato e i suoi fini, i suoi scopi, le sue motivazioni davanti a un Parlamento che non avrebbe dato seguito al messaggio. Magari lo avrebbe discusso ma poi si sarebbe perso come evaporato. Non sarebbe stato un bene né per l'istituzione che risiede al Quirinale né per il Parlamento. E la terza cosa che forse è la più grave, anzi sicuramente secondo me è la più grave di tutte, il non seguito sarebbe stato un precedente, una pietra tombale rispetto all'ipotesi di amnistia perché il fronte anti-amnistia si sarebbe rafforzato. A volte i tempi giusti fanno la differenza. Questo perché in passato obiettivamente tutte le forze politiche tranne i radicali erano a favore, cioè contrarie all'amnistia. Quindi avrebbero rifiutato ovviamente una pronuncia, una votazione a favore dell'amnistia. È innegabile che oggi nel PDE le forze politiche necessarie a comporre i due terzi del Parlamento, perché i due terzi del Parlamento sono la maggioranza necessaria a votare un provvedimento di amnistia, sono in gran parte favorevoli, contrariamente a qualche mese fa. Un esempio per tutti è Brunetta, ma non solo. Pensare che siano stati illuminati sulla via di Damasco è legittimo. Più ragionevole secondo me pensare che Berlusconi e le sue vicende personali e giudiziarie in qualche modo centri, anche se l'amnistia non riguarderà, di solito essere pensato così, i reati fiscali per cui è stato condannato. D'altra parte è lo stesso Alfano che specifica questa cosa. Poi certo, se il messaggio alle Camere fosse stato il fine ultimo, sarebbe stato utile averlo il primo possibile, ma siccome penso che il fine ultimo sia l'interruzione della prassi criminale di tortura vera e propria che è l'esecuzione della pena carceraria in Italia, secondo me la scelta dei tempi da parte di Napolitano è stata quella giusta. Speriamo che si realizzi una maggioranza sufficiente che isoli i vecchi e i nuovi giustizialisti. I nuovi giustizialisti come Grillo, per esempio, che sostengono la tesi della strumentalizzazione della drammatica emergenza carceraria per fornire un servizio a Berlusconi. Non so quale vantaggio potrebbe essere, e su questo appunto come ho detto lo stesso Alfano è stato abbastanza chiaro, forse per ipotesi, o meglio per assurdo, merda più rispetto il giustizialismo storico di destra, per esempio di La Russa, di Fratelli d'Italia, o al limite della Lega, sempre allarmata dalla situazione dell'ordine pubblico del nord, messa in pericolo dai pericolosi immigrati. Era forse più rispetto questo di un giustizialismo ad hoc, proprio di chi pur combattendo a parole Berlusconi dimostra che se Berlusconi stesso scomparisse, un interruttore spergnerebbe il loro cervello. Di questo traste di cervelli politici, sincronizzati, solo su Berlusconi fa parte ovviamente anche Travaglio, scontatissimo, e Repubblica, che ha acceso le sirene di allarme con delle dichiarazioni del direttore Ezio Mauro. Vedremo cosa questo Parlamento riuscirà a partorire e in che tempi. Per ora esprimiamo apprezzamento, esprimo apprezzamento per questo messaggio alle Camere, ovviamente anche per l'unica forza politica che pur stando fuori dalle Camere si è mobilitata in questo senso, cioè i radicali capiggiati da Marco Pannella. Grazie e continuate a seguire le trasmissioni di LibriTV.